Almeno 20 bambini sono morti e decine di altri sono stati ricoverati per rintossicazione dopo aver pranzato nella mensa scolastica. È accaduto in India, nello stato di Bihar, uno dei più poveri e più popolosi del paese. Secondo le prime ipotesi, olio, riso o verdure potrebbero essere stati contaminati da insetticidi o altre sostanze. Il governatore di Bihar ha immediatamente ordinato un'inchiesta sull'incidente ed è stata formata un'apposita commissione. Un gruppo di medici è stato incaricato di fornire cure ai bambini in ospedale. Un risarcimento di 2.000 dollari è stato annunciato per le famiglie dei bambini morti. Il governo indiano ha introdotto mense gratuite nelle aree più povere per incentivare la frequenza scolastica, ma spesso le condizioni igieniche sono scarse e si verificano casi di intossicazione.